La fede è la porta di accesso alla verità della vita, alla cui conoscenza è l'aspirazione più alta della mente e del cuore dell'uomo. Così il professor Mauro Cozzoli presenta il volume Pensare, Professare e Vivere la Fede nel solco dell'esortazione apostolica Porta Fidei. Sono tre versanti del vissuto cristiano e del vissuto in particolare di una facoltà di etiologia impegnata proprio a pensare, proclamare e insegnare a vivere la fede. Si è basata sulla esortazione apostolica Porta Fidei con la quale il Papa Benedetto XVI ha indetto l'anno della fede, esattamente l'anno che stiamo vivendo. Il libro è un sussidio, un incentivo a cogliere e approfondire questo valore umano e umanizzante della fede lungo le tre direttrici del pensare, professare e vivere. Pensare perché la fede è conoscitiva e ragionevole, professare perché la fede è espressione e annuncio, vivere perché implica la fedeltà operativa.